Allora, tutti quanti abbiamo ascoltato i termini delle radiografie, così le definirei che ci sono state esposte. Io credo che sia per esigenze personali del professor Pagnacieli, ma anche proprio per dare un senso di sequenza logico, concettuale alle cose che abbiamo detto, lei è proprio l'intervento ad hoc che ci vuole in questo giorno. Buongiorno a tutti e grazie per questo invito. Volevo fare qualche riflessione sul rapporto tra i cittadini e l'Unione Europea, perché giustamente il dottor San Giuliano evidenziava alcune criticità, mentre la ricerca sembrava mettere in luce un cambiamento di opinione, un miglioramento dell'immagine dell'Unione Europea. In realtà entrambe le posizioni sono condivisibili, può sembrare un paradosso, ma in realtà se guardiamo con un'ottica più di lungo periodo ha perfettamente ragione il dottor San Giuliano. In particolare noi vediamo attraverso i dati dell'Eurobarometro un piccolo rimbalzo di fiducia nei confronti dell'Unione Europea, ma se noi guardiamo invece su un orizzonte temporale un pochino più ampio, vediamo un vero e proprio croco di fiducia dell'Unione Europea. Ho testimoniato anche, diciamo, dai recenti appuntamenti elettorali e in quanto possono valere i sondaggi a 6-7 mesi dalla tornata elettorale delle elezioni europee, vediamo alcuni fenomeni di partiti che non sono esattamente filo-europei, che si stanno imponendo all'attenzione delle opinioni pubbliche locali. In particolare mi pare importante, sempre utilizzando i dati dell'Eurobarometro, osservare come la sfiducia nell'Unione Europea di brevevolgere di 7 anni, dal 2007 al 2012, si passa dal 32% al 60%, un dato enorme, quasi raddoppiata e contestualmente si è dimezzata la fiducia, dal 57 al 31. In Italia, se ci soffermiamo sul dato italiano, noi abbiamo visto tra prima della crisi greca e dopo la crisi greca un calo di addirittura più di 20 punti nella fiducia nell'Unione Europea. Pensate, l'Italia è un paese da sempre eurofilo e passa dal 74% di fiducia nel 2010 fino al 52% dopo la crisi greca e poi c'è una fase invece più ondulatoria caratterizzata da una crescita e da qualche calo in relazione a provvedimenti che vengono adottati dall'Unione Europea. Però, se quindi guardiamo in una prospettiva più ampia, indubbiamente avvertiamo a livello europeo, ma anche italiano, un appannamento di immagine dell'Unione Europea. In particolare, se noi guardiamo quali sono i valori attribuiti all'Europa, vediamo che sostanzialmente i valori positivi sono concentrati quasi esclusivamente su due aspetti. Uno, la libertà di spostamento, per chi studia, per chi lavora, per le imprese e così via, e la pace, quindi il fatto che l'Unione Europea garantisca la pace. Ma al contrario, quando guardiamo gli aspetti negativi, vediamo una forte concentrazione sui temi dello spreco di denaro, della burocrazia e, perché no, anche della disoccupazione, viene attribuito, diciamo, all'Europa, anche questo aspetto. E allora ha perfettamente ragione il dottor Sangiuliano quando dice che siamo in una fase di stallo, una fase di stallo molto prolungata. Se noi guardiamo sempre attraverso i dati dell'Europarometro, qual è la velocità attesa dei cittadini, di questo processo di integrazione europea e qual è la velocità percepita, vediamo che sta aumentando il divario tra la velocità auspicata dai cittadini europei di questo processo di integrazione e quello che sono effettivamente i tempi di questo processo. E allora è come se l'Europa, dopo l'Unione Monetaria, si fosse un po' sbarrita o avesse in una certa misura focalizzato prevalentemente la discussione e il rilievo mediatico solo sugli aspetti economici, dimenticandosi di tutti gli altri ambiti, di quasi tutti gli altri ambiti. Giustamente il fallimento del processo di costituzione europea evidentemente ha rappresentato un elemento che ha complicato questo processo, però provate a immaginarvi nella mentalità dell'opinione pubblica europea come questo rappresenta un elemento di forte delusione. Sono molti altri temi, moltissimi altri temi che sono totalmente elusi e determinano anche poi delle distorsioni percettive, noi siamo creditori netti nei confronti dell'Unione Europea, in realtà i cittadini italiani pensano che beneficiamo di più, perché siamo debitori nei confronti dell'Unione Europea. Tanti temi, tanti temi, tanti ambiti, dall'Unione politica ai temi legati alla sanità, alla giustizia, all'armonizzazione dell'offerta formativa alla scuola, le politiche del lavoro. È un'Europa considerata distante, poco interessata alla costruzione di una vera e propria identità europea. L'immagine di un'Europa che impone spesso misure draconiane, anche questo influenza molto l'opinione dei cittadini in una fase di crisi. Quindi impone delle misure di stati meno virtuosi e tutto questo sta determinando atteggiamenti di vera e propria ostilità nei confronti dell'Unione Europea. Allora la crisi si può rappresentare un'opportunità in realtà, lo vediamo ancora facendo ricorso ai dati dell'eurobarometro, però è interessante notare che c'è un po' di strabismo da questo punto di vista, perché mentre c'è un forte accordo rispetto all'idea che la crisi possa avere come conseguenza il fatto che i paesi dell'Unione Europea debbano lavorare a più stretto contatto e come conseguenza che ci possa essere sostanzialmente una Europa più forte nel medio e lungo termine, i cittadini europei interpellati per l'Orobarometro sono fortemente convinti di questi due aspetti, al contrario la conseguenza costituita dal fatto che i cittadini si sentano più vicini al termine di questo periodo di crisi ebbene ottiene più di senso che consenso. E allora questo deficit di cittadinanza può essere in parte colmato attraverso scelte di temi che siano molto vicini alla vita di tutti i giorni dei cittadini e tra questi appunto collegando nel tema del convegno di oggi appunto il tema del consumarismo, la tutela dei consumatori, il costante lavoro di formazione e informazione dei cittadini e consumatori, la promozione della qualità, il tema della sostenibilità che è così forte negli abitudini e nelle attitudini dei cittadini, la relazione aziende-consumatori, una relazione improntata a trasparenza, correttezza e digitalità, insomma tutti questi temi, non è certo l'unico, potrebbero in qualche modo rappresentare una sorta di vettore di cittadinanza europea, però condivido assolutamente l'idea che siamo in una fase di impasse ed è una fase estremamente pericolosa perché di fronte a questa immagine distorta dell'Europa, un'Europa, ripeto, arcinia che ci impone delle misure, ebbene nell'opinione pubblica e soprattutto quella meno scolarizzata, diciamo la percezione che l'Europa sia nemica e non amica, si sta facendo strada. Ultimo aspetto del mio intervento riguarda invece il rapporto dei cittadini rispetto alle associazioni consumeristiche e le aziende. Qui avvertiamo una sorta di rovesciamento del senso comune, noi vediamo che soprattutto dopo che la crisi si è imposta all'attenzione di tutti noi e ha cambiato profondamente le nostre vite, i nostri atteggiamenti, le nostre opinioni, ebbene da un lato vediamo che cambiano i meccanismi fiduciari, lo vediamo in modo eclatante per quanto riguarda le cosiddette istituzioni di rappresentanza, in particolare se pensiamo all'Italia credo che il voto del 24 e 25 febbraio abbia rappresentato un elemento veramente inedito nel nostro Paese, si tratta delle elezioni con il più alto tasso di volatilità, cioè di cambiamento di voto rispetto alle elezioni precedite dalla storia repubblicana e se consideriamo 279 appuntamenti elettorali che si sono svolti in Europa dal 45 in poi 16 Paesi, queste elezioni si collocano al terzo posto per tasso di volatilità, cioè per infedeltà di voto, questo per dirvi che cosa sta succedendo nel nostro Paese, è una situazione molto più fluida, vengono meno le appartenenze, c'è più disorientamento, ebbene in questo contesto è evidente che ci sono come sempre rischi e opportunità, il rischio del fenomeno che si chiama di, viene definito con un termine un po' accusato di disintermediazione, cioè cittadino che mette in discussione qualsiasi sistema di rappresentanza, cittadino fai da te quello che alla fine in modo un po' sbrigativo vorrebbe una sorta di democrazia teniesa, la pericle, ebbene in una situazione di questo tipo è chiaro che anche il mondo associativo rischia parecchio, però dai dati che abbiamo visto sembra che per manco un livello di fiducia elevato da parte dei cittadini nei confronti delle associazioni consumeriste, però qual è la contraddizione in cui volevo parlare? In realtà c'è una fiducia abbastanza elevata anche nei confronti delle imprese, più elevata nei confronti delle associazioni che tutelano i consumatori, ma elevata anche rispetto alle imprese, ma la differenza è proprio questa, cioè che per certi versi la fiducia nelle singole imprese, in particolare le imprese di marca, sia molto più elevata rispetto alla fiducia nella categoria delle imprese in quanto da, e al contrario c'è una fiducia molto più elevata nei confronti del mondo consumeristico e delle associazioni di tutela dei consumatori che non nelle singole organizzazioni che spesso non sono conosciute, quindi sono se c'è un male che riguarda il nostro paese, la frammentazione per certi versi e questo in realtà dovrebbe rappresentare un elemento di riflessione sull'opportunità di andare verso processi di maggiore cooperazione tra le associazioni consumeriste, in questo senso il consumer forum rappresenta davvero una realtà molto importante da seguire dove si incontrano le associazioni imprese del contatto. Dicevo c'è una ricerca di punti di riferimento in una fase di disorientamento, ma c'è anche molto scetticismo tra i consumatori, tra i cittadini, ecco quindi che da un lato se c'è un'apertura di fiducia nei confronti del mondo consumeristico, dall'altro però attenzione perché non è una fiducia illimitata, non è un'apertura di cripto illimitata. Se si fanno patti con i consumatori rispetto a quelli che possono essere i loro diritti, ma anche i loro doveri, se diversi, sono patti che devono in qualche modo essere rispettati. Da un lato grande opportunità, ma attenzione perché la fiducia rischia di evaporare, come è avvenuto nei confronti di altre istituzioni, come detto in modo irreversibile, però è una sfida molto impegnativa che dovrebbe in qualche modo rendere tutti consapevoli del fatto che i cittadini oggi in una fase di disorientamento hanno bisogno di punti di riferimento santi. Vi ringrazio per l'attenzione.